salve a tutti eccomi con una nuova diretta e in particolare mi è stato chiesto di risolvere o di dare indicazioni sulle prove di concorso per a 21 geografia e io assolutamente la mia classica concorso assolutamente non è geografia io sono un ingegnere conosci molto bene la matematica la meccanica la classe 042 la fisica ma assolutamente geografia no e in particolare era questa sì quella che mi avete chiesto leggiamo bene la traccia e proviamo insomma ad accontentare quello che chiede il vostro collega quesito 5 questa ha un'altra cosa importante se qualcuno vi fa vedere le tracce del concorso lasciate verte quelle del 2012 che sono tanto diverse concorso profumo monti ministro dell'istruzione profumo e ministro monti lasciatele stare anche quelle del 2000 alcuni ho visto girare prove del 2012 prove del 2000 del addirittura del 1999 che il concorso precedente del 2012 prendete il 2016 se proprio volete esercitarvi sulle prove io ve l'ho detto sono i testi le prove su cui vi cerco di preparare sono quelle relative all'ultimo concorso che diciamo è molto per certi e molti versi è decisamente simile al concorso che vi troverete a fare voi ma già lo comprendete dal quesito il candidato spiega come si possa affrontare l'argomento dinamiche migratorie attuali del passato in una seconda classe di un istituto del settore economico oppure ad esempio si imposti una unità di apprendimento sulle caratteristiche di una regione italiana indicando quindi una unità di apprendimento sulle caratteristiche economiche di una regione italiana indicando destinatari tempi competenze a valutare metodo di strumento attività modalità di verifica ancora si imposti un'unità di apprendimento sulla biodiversità indicando i tempi metodi l'attività da realizzare la tipologia di classe a cui destinarla bene io direi a questo punto vedendo insomma pensavo di partire dal quesito 5 ma a questo punto focalizziamoci allora vediamo vado sul formato voglio ritagliare un po questo è quello che mi avete mandato ritagliamo quello che ci serve facciamo il quesito 3 questa è la parte d'inglese come vedete è tutto molto simile e adesso cerchiamo di dare delle linee guida che possono essere comuni e utili a tutti i candidati cioè a tutti quelli che si apprezzano a fare il concorso docenti ok allora togliamo questa evidenziazione che non ci serve più questa vera zoom un po così vera leggete bene ve la porto più sopra perché così utilizziamo tutto lo spazio che possiamo ok ve la evidenzia di nuovo perché andiamo a lavorare su questo benissimo allora ovviamente direte ma beh ma lei professore non ci azzecca niente con sta classe di concorso non può dire nulla ma invece quello che adesso molti colleghi già sanno perché mi seguono seguono tutti i video tra l'altro mi sono arrivati una marea di commenti in cui mi richiedete l'email francesco samani tube come youtube però ci sta solo la parte finale l'ultima quattro lettere chiocciola gmail.com però scrivetemi solo per cose estremamente necessarie non mandatemi una marea di quiz una marea cioè come risolvere i quiz ve l'ho detto mille volte che ho fatto una marea di di video e ne farò altri cioè non non posso fare due tre cioè 20 video solo sui quiz della presa elettiva vi do dei consigli dei metodologici su come affrontarli e poi andiamo avanti perché desidero trattare sia il concorso ordinario che quello straordinario che tra l'altro quello imminente e quindi voglio dare proprio delle soluzioni concrete per riuscire a rispondere in maniera adeguata alle acquisiti che vi vengono posti quindi qua ci chiede di impostare un'unità di apprendimento relativamente alle biodiversità adesso io vi rispondo a questa diciamo a questa richiesta facendo tante considerazioni che ovviamente ampieranno il tempo probabilmente non so se avrete sì forse 20 minuti acquisito forse ce l'avete anche però se il video durerà 20 minuti ovviamente sappiate che io non mi sto focalizzando 20 minuti solo sul quesito io sto cercando di darvi una risposta standardizzata diciamo che può essere trasversalmente accettata per tutte le classi di concorso e quindi per fare questo questo sforzo questo grande sforzo cioè cercare di rispondere a un qualcosa che non riguarda la mia classe di concorso quindi specificatamente poi alle biodiversità dirò veramente cioè dico quello che so cioè niente l'umiltà ci deve essere cioè non è il mio campo però riguardo a tutto quello che gira intorno alla biodiversità che di fatto è il 90 per cento anche diciamo tra il 70 e il 90 per cento della risposta che dovete dare su quello vi do delle indicazioni quindi se c'è biodiversità sicuramente poi lo vedrete pure quando farete l'anno di prova un qualcosa che è sicuramente valido e standard per tutti è l'educazione allo sviluppo sostenibile che è sicuramente qualcosa di fondamentale per il presente per il futuro è una sfida ambientale è un processo partecipativo messo in atto anche dall'iniziativa della buona scuola del miur quindi vi ci metto pure qualcosa buona scuola legge del 2015 quindi c'è l'assunto proprio che l'istruzione è l'unica risposta alla nuova domanda di competenze espresse dai modamenti economici e sociali e quindi è necessario sviluppare da parte che è necessario che gli studenti sviluppino curiosità per il mondo e per il pensiero critico quindi sicuramente sto adesso girando intorno alla domanda di geografia con conoscenze che derivano dalle da un parte dalle legislazioni quindi dalle indicazioni del miur eccetera eccetera e da tutto cioè il mio il bagaglio culturale che uso è quello che ho preso prelevando da tutti i video da tutti i materiali che voi avete sto prelevando quello che potrebbe essere utile per rispondere a questa a questo coesito quindi l'istruzione come risposta ai problemi delle biodiversità benissimo poi lo sviluppo sicuramente si può parlare anche relativamente allo sviluppo sostenibile e deve essere questo sempre relativamente all'unità di apprendimento deve essere integrato e convergente nei percorsi curricolari quindi sviluppo sostenibile integrato e convergente nei percorsi curricolari percorsi curricolari ovviamente specifici per ordine grado di scuola sicuramente si può citare la strategia Europa 2020 che pone particolare attenzione alla formazione di competenze adeguate e correlate alle nuove professioni in campo ambientale e quindi già vado a dire qualcosa di estremamente attuale e di estremamente collegato alla geografia in particolare alla biodiversità questo lo dico in un altro video quando parlo di legislazione 2005 l'Italia è aderito al DES che è il decennio per l'educazione e lo sviluppo sostenibile come vedete ci sono due parole ridondanti che compaiono sempre quindi decennio fatemelo scrivere così per favore perché poi altrimenti il video viene di tre ore per educazione e lo sviluppo sostenibile per educazione sviluppo sostenibile già l'abbiamo chiamato così non c'entra niente con le SS tedesche anche il NUR comunque ha dato di tantissime linee guida quindi a questo punto possiamo pensare a dire qualcosa sul percorso sull'unità di apprendimento e sul percorso didattico quindi sicuramente per arrivare alle biodiversità ci sarà bisogno di prerequisiti la risposta aperta non è che deve essere per elencazione come sto facendo io io ve la faccio per elencazione per diciamo facilitare l'apprendimento di quello che dico però ovviamente ci può essere una bella risposta unica senza andare a fare punto 1, punto 2, punto 3 prerequisiti quindi eventualmente l'educazione ambientale acquisire consapevolezza vedete l'acquisire consapevolezza poi è comune a tutte le classi di concorso ed è comune ovviamente l'acquisire consapevolezza poi diventa specifico quello che viene dopo acquisire consapevolezza ed attenzione verso l'ambiente e attenzione verso l'ambiente voglio sintetizzare perché non voglio dare ovviamente una risposta troppo grande voglio darvi qualche altro riferimento normativo che ci sta sicuramente bene c'è il riferimento ministeriale del 2010 relativo alla dimensione integrata e trasversale dell'insegnamento della cittadinanza e costituzione perché il rispetto delle regole e dell'ambiente quindi l'educazione ambientale passano sicuramente attraverso l'acquisizione del concetto di cittadinanza e costituzione che quindi richiama l'importanza di temi di legalità sensibilità ambientale educazione allo sviluppo sostenibile anche le indicazioni nazionali affermano che bisogna diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni ma anche fra le discipline e fra le culture qua dice discipline e culture quindi ovviamente è tutto poi collegato siamo noi che scorporiamo le varie classi di concorso perché poi ovviamente dobbiamo entrare nella specificità e nel merito di quello che ci viene chiesto si possono fare riferimenti interdisciplinari cioè nella storia tutte le fasi storiche in tutte le fasi storiche l'ambiente ha inciso radicalmente sull'evoluzione e sui cambiamenti della civiltà quindi influenza cioè se il quesito fosse stato creare dei collegamenti interdisciplinari ecco l'influenza che l'ambiente ha sull'evoluzione ovviamente i tempi i tempi non è la mia materia io non so se ci si possono dedicare due ore tre ore cinque ore dieci ore non lo so non so nello specifico quanto tempo richiede questa materia però di sicuro dove è scontato che queste cose le sappiate voi per esempio ci si può ricollegare secondo me anche alle scienze quindi la conoscenza scientifica che risponde alla che risponde alle esigenze della conoscenza ambientale quindi in questo caso potremmo mettere della biodiversità perché sicuramente in scienze ci sta una parte di biologia e quindi biodiversità si può secondo me fare riferimento all'arte e l'immagine l'ambiente ispira l'arte l'arte dà forma all'ambiente alla tecnologia non può essere ecco adesso entriamo sul ramo mio non ci può essere sviluppo tecnologico se non c'è il rispetto per l'ambiente questo potrebbe essere utile per la materia tecnologia scusate non l'ho scritta valutare se questi progetti educativi sono già inseriti nel POF chiamiamolo PTOF va della scuola affinché ovviamente alunni famiglie docenti possano condividere e partecipare ad attività ed essere convolti nella valutazione in itinere anche relativamente alle biodiversità allo sviluppo sostenibile all'importanza dell'ambiente cerchiamo di andare avanti e dire qualcos'altro sicuramente per comprendere le biodiversità e lo sviluppo sostenibile l'individuo cioè lo studente deve acquisire un'educazione al pensiero e quindi un'educazione alla comprensione profonda degli strumenti con cui risolvere i problemi ambientali estrapolo quello che può essere utile per tutte le classi di concorso un'educazione all'agire affinché questa educazione per dirsi tale necessita di una rigaduta nella concretezza una rigaduta reale si possono fare mappe concettuali e andare a inserire i vari collegamenti biodiversità sta al centro e poi tutto quello che circonda le biodiversità quindi conoscere ad esempio lo potrei scrivere qua lo scrivo qui conoscere e tutelare le biodiversità gestione e tutela dell'acqua come elemento prezioso cambiamenti climatici alimentazione sostenibile lotta alle ego mafie ecco questo mi viene in mente ci può essere ci possono essere anche dei soggetti di riferimento come ad esempio il ministero dell'ambiente e della salute il ministero i miur ministero dell'istruzione dell'università della ricerca che più ci appartiene le varie associazioni ambientaliste la guardia costera i traguardi da raggiungere quali sono sviluppare un senso di identità personale sviluppare sviluppo identità personale giocare giocare in maniera costruttiva e rispettosa dell'ambiente gioco in maniera costruttiva e rispettosa riflettere confrontarsi e confrontarsi osservare con attenzione il proprio corpo gli organismi viventi l'ambiente quindi osservazione adesso in termini generali dell'ambiente lo metto per collettato curiosità di esplorazione curiosità è alla base della motivazione quindi curiosità è anche desiderio di sperimentare poi ovviamente quello che è proprio specifico della materia io non lo so le competenze ad esempio potrebbero essere vado sopra saper riconoscere le diversità quindi riconoscere e vedere la diversità come un valore aggiunto ovviamente saper creare un rapporto emotivo positivo con gli ecosistemi comprendere l'importanza delle varietà della diversità negli ecosistemi l'importanza comprendere la dipendenza tra uomo e ambiente saper distinguere che ne so le nazioni saper distinguere e saper leggere le relazioni tra componenti degli ecosistemi acquatici ad esempio saper contraddistinguere le componenti di un territorio le principali relazioni che esistono tra di esse e le finalità ovviamente quali sono stimolare la consapevolezza e la consapevolezza e la conoscenza del sé quindi scriviamo qui consapevolezza stimolare quindi anche un'adozione di uno stile di vita consono a quanto abbiamo detto stimolare adozione stile di vita senza l'accento scusate saper riconoscere i comportamenti non rispettosi e favorire favorire comportamenti rispettosi creare un rapporto positivo con la natura e quindi io direi che poi ovviamente aggiungendo e inserendo specificità della materia alle quali io per esempio non posso rispondere perché non mi appartiene secondo me in questa maniera si coglie appieno la risposta che può essere data ad un quesito dove vedete che spesso nel quale vedete che spesso viene richiesta un'unità di apprendimento quindi non c'è solo la parte nozionistica assolutamente ma c'è tutta la parte relativa all'ambiente alla metodologia didattica agli obiettivi da raggiungere e eventualmente si potrebbe pensare a un gioco dei ruoli a classi invertite una didattica laboratoriale se nella scuola lì vicino c'è un giardino e magari si possono utilizzare delle piantine e quindi andare anche a facilitare la socializzazione tra gli studenti perché abbiamo detto quali sono i pro e i contro di tutta della didattica laboratoriale piuttosto che cooperative learning eccetera 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 ovviamente al termine di tutto ciò perché io me lo dimentico bene sono diverso dagli altri anche in questo è un mio difetto io vi chiedo di commentare di diffondere questi video sotto in descrizione troverete tanti altri link utile mettete mi piace iscrivetevi attivate la campanellina e aiutate a diffondere questo canale completamente gratuito di preparazione in questo caso al concorso ma nel tempo questo canale sarà un riferimento culturale di istruzione partecipazione e integrazione io con questo vi ringrazio e vi auguro un buono studio e una buona giornata grazie a tutti